ha fatto storia a sé la sfida domenicale under quindici al seminare ragazzini e Catania non ha decretato punto in classifica in compenso si è rivelato un test match per variare le condizioni fisiche e mentali da parte di entrambe per la ragazzini incontro propedeutico alla trasferta di mercoledì piazza armerina contro la next level si ripartirà dalla partita che vediamo nell'immagine in generale da quanto raccolto fin qui quattro punti in due effettivi confronti corrispondenti ai primi centoquaranta minuti di campionato l'otto a uno sulla junior Catania all'esordio del pari per due a due di San Catalto che ha lasciato un pizzico di rammarico dopo lo zero due firmato Fichera e Papa ed ecco ragazzini Catania che per la cronaca si è conclusa sull'uno a quattro rossazzurri avanti con ardito nell'immagine immediato retenata da calcio d'angolo e su un pallone che ha incocciato la traversa bianchi di casa reattivi con questo spunto offensivo targato in zirillo Carlo del campo uscita di maravigna a evitare pericoli raddoppio ospite con maugeri cui fa seguito una strepitosa giocata del capitano cristiano Fichera suona la carica ai compagni per rendere la partita più vivace e più interessante il numero dieci della ragazzini si invola si accentra la scarica sul secondo palo quello più lontano di maravigna il quinto centro stagionale segna con una certa continuità Fichera uno due e vantaggio dimezzato a metà tempo ma dall'altra parte in agguato c'è sempre maugeri assist di forti tocco morbido sull'uscita di vitale il Catania si riporta in quota quasi allo scadere del primo tempo uno tre il parziale inizio ripresa il tecnico ragazzini Giuseppe Calvaruso mischia le carte dentro Campagnolo Pelleriti e Salvago fuori Renzi Giannetto e Carlo del campo qualche minuto dopo spazio per Cucuzza saluta Tita Librizi conclude a lato da ottima posizione dopo prolungato fraseggio rossazzurro e poi scappa verso la porta di casa ma angola troppo il diagonale mentre la ragazzini si affaccia pericolosamente dalle parti avversarie con questo pregevole tiro al volo di Pelleriti in croce dei pali colpito in pieno tra gli applausi del pubblico altro cambio nel finale Pellegrino per gli ultimi scampoli di partita rileva Mellini intanto Campagnolo la fa viaggiare lunga Fichera ci mette l'esperienza al limite dell'aria tenta il bis odierno porta non inquadrata per poco in due tempi Pellegrino Campanile in profondità capisce tutto Fichera che brucia Missud Maravigna ottima scelta di tempo per lui è l'ultimo intervento di giornata prima di lasciare il campo ad agosta nella Catania dentro pure Di Paola Seitta Briganti Fiammetta Cuti Spoto e Cutruneo ultimo cambio ragazzini sui titoli di coda Coccioni per Inzirillo a mettere il punto esclamativo ospite e Cuti Spoto che c'entra l'incrocio dei pali nel recupero finisce 1-4 ragazzini Catania e adesso tutti in campo nell'infrasettimanale ragazzini nella terra dei mosaici poi di nuovo in casa domenica 20 ottobre derby cittadino col Real Trinagria fischio d'inizio come consueto ore 10 mix zone con l'esterno di difesa Claudio del campo per voi quello che era importante era provare a dare una certa continuità ai vostri miglioramenti dal punto di vista del gioco sì è vero il mister ci ha chiesto di giocare palla a terra non importare il risultato l'importante è giocare bene domenica scorsa a San Cataldo avete fatto una buona prestazione siete usciti con un pareggio cosa ci puoi dire di quella gara la partita è stata complicata abbiamo giocato bene però non è bastato senti adesso c'è un tour de force perché andrete a piazza armerina mercoledì poi tornerete a giocare in casa sicuramente sarà una settimana abbastanza impegnativa dovrete prepararvi sia psicologicamente che fisicamente a questo tour de force sì sarà una trasferta difficile dobbiamo giocare bene bene ciao 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 Grazie a tutti